In Natale a Castello, giunto alla 18esima edizione, avrà l'onere di inaugurare la ricca e impegnativa programmazione che l'amministrazione comunale di Minturno ha allestito in vista delle imminenti festività di fine anno. Si tratta di un grande sforzo economico e organizzativo a cui hanno deciso di contribuire le più importanti realtà associative del territorio impegnate sia nel sociale che nella promozione turistica. Abbiamo bisogno di tutti, ha tenuto a sottolineare il sindaco di Minturno, Gerardo Sefanelli, nel corso di una conferenza stampa che presso l'aula consigliare Severino De Balzo ha registrato anche la partecipazione del vice sindaco Elisa Venturo, del consigliere comunale Giuseppe Pensiero, di Francesco Campani della Proloco e di Raffaele Cardillo dell'associazione commerciante di Minturno. Quello allestito dal comune si pronuncia dunque un mese e sino a 7 gennaio prossimo ricco di iniziative con animazione e divertimento per ogni fascia di età che sarà sintetizzato il 31 dicembre con la terza edizione del Meglione di Capodanno in Piazza Rotelli a Scauri. Ritorna il format di Natale a Castello, tanti spettacoli teatrali per bambini e per adulti, le stanze attrezzate, le stanze di Babbo Natale, le stanze del ghiaccio, fabbriche di giocattoli, insomma le consuete animazioni del periodo natalizio, poi ovviamente la conferma del grande concerto di Capodanno a Scauri ma soprattutto quest'anno la novità dei mercatini nella Piazza Portanova adiacente al Castello di Minturno e la collaborazione delle associazioni di commercianti, sia quelli della Via Appia sia la novità che salutiamo con favore anche dei commercianti di Minturno. Quindi tante animazioni, la pista di pattinaggio sul lungomare, tante animazioni, tanti divertimenti, tanti momenti belli per grandi e piccini. Il messaggio è quello di venire a Minturno a vivere qualche momento di relax, qualche momento di gioia, l'atmosfera natalizia, insomma tutti quei sentimenti positivi che accompagnano il periodo di Natale.